Emeliano, un'altra sconfitta. Quasi siamo abituati, tutto sommato non fanno anche tanto effetto. Mettiamola a sorridere, però la situazione è veramente imbarazzante. Per la prima volta mi sono sentito anche, a parte preso in giro, impotente come la squadra di fronte a tutte le altre squadre che vengono qui riescono a fare quello che vogliono. E questo non è normale. Ci sta di perdere la partita, però qui come entri in campo sai che se va bene perdi 1-0, 2-0. A questo punto ho cambiato i giocatori, sono cambiato l'allenatore. Ne abbiamo fatte di tutti. Che c'è rimasto da fare? Sinceramente non lo so, perché i giocatori non se ne può comprare più o meno male, perché ne abbiamo già comprati neanche troppi. Il problema è che ne abbiamo comprati forse male. Io ho sempre avuto dei dubbi su questa valutazione della squadra, che anche io magari si definiva una squadra forte con giocatori forti. Forse i giocatori saranno anche forti, ma non lo dimostrano. E poi sono stati... non fanno una squadra. Sono stati presi male. Abbiamo l'equivoco del terzino sinistro, che dopo 52 per giocatori ancora non siamo riusciti da trovarlo. Abbiamo comprato quattro centrocampisti uguali, che giocano nello stesso ruolo. Manca ancora un regista. Di Pall'Antonio è andato a finire in fascia oggi a giocare, perché non c'è nessuno. Ne potete dire tante. Abbiamo giocato con Pio e Super Punte, che non so se hanno mai tirato in porta. Forse penso di no. Abbiamo preso quattro attaccanti, sono tutti fermi al palo per incidenti vari. Insomma, la situazione è brillante. Se tu fossi al posto del mister, che faresti ora? Io andrei a casa, sinceramente. Ora, io non so l'amor proprio che possa avere Stellone, ma fossi nel lui mi sorgerebbe questo dubbio, perché se voglio avere un nome e continuare a allenare, sinceramente rimanere qui non è che gli faccia bene. però fossi nel mister, niente, dicevo prima, tutto sommato, anche se siamo con un piede tre quarti e anche più in serie di, o comunque ultimi poi vediamo, in realtà finché la matematica se sei a cinque punti a due giornate dalla fine della penultima non ti condanna, si può sempre dire vinciamo le ultime due partite, non so come, però sinceramente non saprei che fare. Forse andrei a casa, ecco. Ok, grazie.